Parliamo del collagene Essence. Collagene crea la fondazione di base dei tessuti connettivi e ha un ruolo significativo per quanto riguarda l'invecchiamento dell'organismo. Essence Collagene, grazie al suo contenuto di 7000 mg di collagene, non ha concorrenza sul mercato ed è sovranominato Elisir della gioventù. Oltre al collagene di tipo vegetale di acacia, il collagene Essence è costituito da collagene suino contenente collagene di tipo 1, 2 e 3. Previene la glicazione del collagene. Glicazione vuol dire il processo di formazione delle molecole H danose per l'organismo con conseguente invecchiamento cutaneo. Contribuisce alla formazione di collagene Collagene per il normale funzionamento di ossa, cartilagine, pelle e denti. Aiuta a ripristinare l'elasticità della pelle, donando un aspetto più giovane e nutre perfettamente la pelle. Ha un effetto positivo anche sui capelli e unghie. Il collagene, oltre a migliorare l'aspetto della pelle, aiuta moltissimo per i dolori osseo causati dall'erosione della cartilagine. Preso quotidianamente nel giro di 15 giorni, inizierai già a sentire i benefici di questo meraviglioso prodotto. Tutto qua ti rimane solo da provarlo e vedrai il cambiamento in bene, più libertà nei movimenti, meno dolori, più voglia da vivere.